Perché come tutta l'Italia sono chiusa in casa. Per fortuna continuo a sentire la mia analista una volta a settimana tramite videochiamate. Dice che tanti hanno sospeso le sedute perché hanno problemi con l'amante e in famiglia non trovano luogo tranquillo per chiamarla. Una mia amica si sta lasciando con il fidanzato, devono trovarsi per parlare. Si sono dati appuntamenti al supermercato a un metro e mezzo di distanza. Un'altra scrive su Facebook, a fare la quarantana con qualcuno, il venue vuoi sposarmi. Ho sempre amato gli assembramenti, parlare con gli sconosciuti, camminare. Ora no, uomini con le maschere davanti alla finestra. Riorganizzazione degli spazi per evitare il contagio, lasciare le scarpe sul pianerottolo, creare camera chiusa per gli abiti che vengono da fuori. Lasciare i sacchetti fuori dalla porta, prendere i cibi con guanti e lavarne il bicarbonato. Questa è la frutta che ti è scoperto da quattro le stanno al volo del bicarbonato. Ho creato questa cameretta dove attendo la mascherina là e metto tutti i vestiti che vengono da fuori qua. E che poi chiudo? Capisco. Ma che sono? Non sono d'accordo. La mascherina non la puoi mettere nel stesso posto dove ci sono vestiti. Io padre, ti dici che sarebbe sornione a nascondere altre competenze in campo giuridico ambientale? Io ci metterei anche una molletta, rassicurerei con una molletta. Mi ha sferito quest'ottima mascherina per posta, perché lui aveva già capito tutto me che fa. E aveva preventivamente acquistato uno spacco di mascherine per tutta la famiglia. Siamo un po' solo di me, ma i miei dei vestiti, ma io almeno lo scerano. Ma che siamo anche privilegiati rispetto a tutti gli altri? Ma voglio. 12 marzo, terzo giorno di reclusione. Con piano di mia madre, brindiamo su Skype. Dove guardi? Non ti vedo tesoro. Perché non mi guardi negli occhi? Ma poi ci rendiamo conto che il contatto visivo è possibile. Perché o guardi l'altro, o guardi la lucetta della camera. Occupiamo tutti il nostro tempo con attività quotidiane normali, per non perdere il contatto con la realtà. Prima di tutto dipende se puoi fare la doppia impanatura o quella semplice. Che cosa succede? La signora del palazzo di fronte mi salutava un attacco, la gente suona dalle case, poi arrivo sul whatsapp il programma della settimana successiva. La signora del palazzo di fronte mi salutava un attacco, la gente suona dalle case, poi arrivo sulle case, poi arrivo sulle case, poi arrivo sulle case, poi arrivo sulle case. Più di 400 morti, i medici lombardi dicono che i positivi sono 5 volte in più di quello che si dice. Trovo gli occhi spalancati, è stato così per molti miei amici, non so cosa fossero quegli elicotteri. La prima volta in vita mia sensuale di guerra. Sesto giorno, decido di prendere un po' di sole. Ho salto sulla terrazza condominiale e di fronte a me, sulla terrazza dell'altro palazzo, una ragazza che suona la chitarra. Ehi, nera, scusa, ciao. Si chiama come me, alla mia età, e si è ricreato un salotto sulla terrazza con la sua cattapata. E' stata una bella novità. Ma guarda lì quanto sei disorganizzati, oh... Vai, eh, aspetta... Asta, aspetta, 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 aspetta che ti ho appuntumato, vai, vai, pronta, pronta. Questo incontro porta positiva. Comportarsi sulle terrazze è bello, però qui la situazione è peggiore ogni giorno di più. Piccolo spassolo sempre più là, ieri quasi 800 morti. Spero davvero vado tutti bene. Spero davvero vado tutti bene.